Che sia una vittoria dei risparmiatori beffati dal crack delle banche fallite ormai 5 anni fa è abbastanza assodato. Di certo le migliaia di persone che hanno visto andare in fumo i loro risparmi per la fine della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e di Carife, Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche possono ora sperare di recuperare i loro soldi. Il Ministero dell'Economia ha pubblicato infatti il decreto apposito sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che ha reso contestuale anche l'attivazione del portale tramite cui presentare le domande di rimborso. Partono dunque gli indennizi ai risparmiatori truffati dalle banche. I tempi sono abbastanza lunghi, ci sono infatti 180 giorni, 6 mesi per presentare le richieste di risarcimento. Già attivo il sito del Fondo per gli Indennizi dei Risparmiatori, il FIR, su cui sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda e inviarla. Come spiega l'Avvocata Vanna Pizzi, che ha seguito, portando a buon fine le cause civili e penali, in favore dei risparmiatori dell'ex Banca Etruria del Comitato di Pizzoli, i risparmiatori coinvolti nel crack delle banche potranno fare domanda per ottenere l'indennizzo automatico. Viene dunque riconosciuto automaticamente il 90% della perdita per chi abbia le due cosiddette caratteristiche alternative, che sono relative al reddito, 35.000 euro di reddito imponibile, possono fare richiesta di indennizzo anche di risparmiatori che abbiano già ricevuto il precedente ristoro dell'80% per il restante 10%. Anche chi ha già ottenuto un rifiuto in passato può ripresentare istanza. Il primo caso di risarcimento totale delle somme perse nel crack di Banca Etruria fu proprio in Abruzzo, a Pizzoli, comune che contò un alto numero di truffati. Il lodo arbitrale del Nanac riconobbe infatti l'intera somma investita e andata in fumo all'imprenditore aquilano Domenico Ioannucci, presidente del Comitato Difesa degli Sparmiatori della Banca Etruria di Pizzoli.